Meret! Alex! Sì, ma ti è fuori! Fuori fuori! Fuori fuori da te! Che bordello, Aaron! Alex, per favore, Alex! Io in tutto questo... Alex! Alex! Il numero uno! Alex! Alex! Alex, per favore! 미국! Alex! 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 Sssh! Ma noi mutano fino a me! E me... A me! Alex! Però tornati qua, perché se vai in su è la gente che aspetta qua! Alex! No ragazzi! Grandi! Grandi! Alex! Mere! 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 Ma come stai pensavano? Mere! Ma come stai pensavano? Ma come stai pensavano? Ma non lo farano, e ne si scusa! Ehi! Alex! Ehi! Alex! Ma non! Sssh! Ehi! 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 Ehi!